Pessoa How deep is your love? Is it a line of honor? Hear me harder Again How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer Again How deep is your love? Ho, 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 to me è il tuo amore Ho, 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 to me è il tuo amore Grazie Sì, sono brava direi Sì, sono Calice Sì, eh Sì, sono Calice Sara, hai cantato proprio bene sei una brava che sa cantare, sa stare sul tempo, e non è facile sto genere qua, la disco Soul, anni 90, questo pezzo non è anni 90 ma ricalca quella scena, mi sei piaciuta, che te devo di? Grazie. Hai sicuramente le grandi qualità ma qui non si cercano solo le qualità e la preparazione, qui si cerca l'identità, l'unicità, è tutto bello ma tutto flat. No, flat no. Per me sì ragazzi, è bella la canzone, è bella, quanti ne abbiamo visti? No, però non è flat. No, ma è tutto flat, sì, non mi arriva niente di originale. Quando è pop è flat. No, non è vero perché io ho fatto pop, cioè io ho fatto anche il pop perché Rolls Royce non è pop, abbiamo visto tantissima gente, però di questo genere pochi, poi non voglio sindacare, è il tuo giudizio, quindi ci mancherebbe. No, 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 ma tu fai bene la sindacata. La domanda diciamo cardine a questo punto è questa perché è chiaro che io non saprei cosa fare con lei giustamente perché io quell'ambito non lo conosco. La questione è questa, ci vuoi lavorare? Sì. Se tu ci vuoi lavorare io ti seguo. Bravo. Io dico solo una cosa. No, io dico una cosa, a me non mi avete fatto parlare. No, no, no. No, no. Amore. Adesso per ripicca io vado al voto senza parlare così non saprete cosa dico. No, questa è la paraculata, Jake. Perfetto. Vai, vai, votate pure. No, no, io non voto se tu non parli. Bravissima. All'offesa. Nessuno mette in dubbio le tue qualità, il tuo talento, la tua preparazione, tutto, ma non è propriamente la mia tazza di te, quindi per me no. Ok, grazie. Permessi. Grazie. Ci vuoi lavorare? Io sono qua. Ci vuoi lavorare sì o no? Sì, per me lei ha una potenzialità. Allora permessi. Grazie. Tu canti davvero bene, sei una brava esecutrice, ma non ho sentito quell'anima che servirebbe a me. Faccio questa cosa perché voglio bene a Paola e non mi va di farle un dispetto. Se lei dice che vede qualche cosa in te, poi però vai con lei, eh? Per me sì. Grazie. Grazie Paola. Grazie ragazzi. Che gentleman. Grazie a tutti. Ti è piaciuto il video? Allora seguimi il profilo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.